Un cooperante italiano Giovanni Loporto è stato rapito in Pakistan nella regione del Punjab nella città di Multan. Lavorava per un ONG tedesca che presta soccorso alle popolazioni alluvionate della zona. Insieme a lui è stato sequestrato anche un cooperante tedesco. Secondo alcuni testimoni due sarebbero stati prelevati in un ufficio da quattro uomini armati e costretti ad indossare l'abito tradizionale pakistano prima di essere portati via.